Grazie a tutti Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale Io sono Macci e questo è un nuovo contest in cui andrò a regalare 3 account moddati Fate bene attenzione in tutto quello che passerà a schermo Perché sono il regolamento e tutto quello che dovete fare per poter partecipare a questo contest Il 6 gennaio ragazzi ci sarà l'estrazione di questo contest Come vedrete anche a schermo Qualora mancasse uno solo di requisiti elencati Non sarete idonei a partecipare al contest Quindi fate bene attenzione Cercate di tenere il vostro canale aperto così Risparmiate del tempo anche a me In caso Diciamo Siate vincitori o comunque vado a fare l'estrazione Mi risparmiereste molto 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 tempo Senza stare lì a lamentarvi che non potete guardare 32 minuti di video 30 minuti di video Quella è colpa vostra se io faccio 30 minuti di video Perché comunque non avete i canali pubblici O comunque non avete le iscrizioni O comunque non fate un cazzo E io mi devo subire 30 minuti di video Quindi mi raccomando ragazzi Iscrivetevi al canale Lasciate un like Commentate Partecipate E niente ragazzi Buona fortuna a tutti Come ho detto nell'altro video Apri del culo E ci vediamo Il 6 gennaio Per l'estrazione Ciao a tutti Ciao a tutti